Oggi abbiamo provato a avviare una riflessione comune su quelle che possono essere le parole chiave che possono guidare gli sviluppi dell'e-learning e degli approcci in generale a formazione in rete per i prossimi anni e abbiamo cominciato a trovarne alcune. Una parola chiave secondo me molto stimolante è open, quindi condivisione di contenuti, materiali, riflessioni, strumenti, partendo proprio dal semplice fatto di porci la questione tutte le volte che produciamo qualcosa, tanto più se lo produciamo con soldi pubblici, se non sia il caso opportuno di renderlo accessibile, condividerlo con la nostra comunità locale e nazionale, quantomeno. E l'altra parola che abbiamo cominciato a individuare è aperto nel senso di destrutturato, che in inglese si direbbe unbundling, cioè quella tendenza che adesso è sempre più evidente nel mondo della formazione internazionale di destrutturazione dei processi che tipicamente invece facevano capo ad un unico organismo come i grandi enti di formazione, le università, che si prendevano carico di tutto il processo, dalla selezione dei contenuti alla loro costruzione, alla loro trasmissione, alla valutazione delle competenze, alla certificazione delle competenze, alle attività di ricerca. Mentre stiamo vedendo che nella fase attuale tutte queste singole attività incominciano ad avere dei concorrenti che si prendono carico di un solo pezzetto del processo, o producono solo contenuti, o fanno solo attività di certificazione, o fanno soltanto attività di valutazione, e spesso sono soggetti che non hanno a che fare con il mondo tradizionale della formazione, per cui sono magari editori, organismi culturali, nuove aggressive start-up. Tutto ciò può costituire un'opportunità per le grandi istituzioni formative che possono ragionare in un modo più aperto e libero sul proprio ruolo, magari anche creando delle reti di alleanze, però può costituire anche in qualche modo una minaccia alla loro funzione storica istituzionale che integrava tutte le attività del processo formativo. L'altro elemento interessante sul quale sarebbe utile ragionare è la dimensione del mobile, che abbiamo inquadrato come una delle altre parole chiave delle tendenze evolutive del e-learning. L'utilizzo dei device mobile per accedere alla rete sta crescendo sempre di più nel nostro paese come nel resto del mondo, per cui è fondamentale che tutte le istituzioni formative che intraprendono la strada dell'e-learning nel 2013 si pongano molto seriamente al problema di come concepire fin dall'inizio i percorsi formativi in modo che non solo siano fruibili anche dai device mobile, ampliandone perciò le possibilità di utilizzo da parte dell'utente, ma siano concepite in modo da valorizzarne al massimo le specificità in termini di integrazione col mondo reale, per esempio pensiamo a tutti i percorsi connessi alla realtà aumentata, di connessione con i servizi e le realtà locali, quindi tutti i servizi geolocalizzati e così via. Si tratta per ora semplicemente di spunti rispetto ai quali però potremo poi andare avanti a dialogare in seguito.